Il grande blef, così il centrodestra ad Omenia, bolla il progetto relativo alla ex IRMEL, siete vicini alle posizioni espresse in Consiglio Comunale da Omenia sul Serio e dall'Ordine del Giorno di Mario Cavigioli, che cosa non vi convince di questo progetto? Noi abbiamo condiviso e affirmato come opposizione centrodestra l'Ordine del Giorno di Cavigioli perché non ci convince il progetto poi tutta la sua forma, non abbiamo chiarezza su quella che è la reale utilità di un parcheggio in Viacomoli, in una posizione fuori dal traffico principale della città che soprattutto per quanto riguarda i turisti va da Gravellona, l'assa Gravellona a Orta a San Giulio, non ci convince perché non c'è uno studio di fattibilità che ci viene a dire esattamente quanto costa quel progetto e soprattutto chi andrà a sostenere le spese di quel progetto, spese di investimento e spese di manutenzioni. Crediamo che dietro a tutte queste parole non ci sia nessuna concretezza e che quindi ci sia un grande breve. Siamo però preoccupati che l'amministrazione voglia comunque andare avanti su questo progetto procedendo all'acquisizione dell'immobile e quindi poi ci sarà da capire come gestirlo. Se avesse una sfera di cristallo, posto che fino alla metà di giugno c'è il vincolo appunto per la vendita e l'acquisto, la sfera di cristallo a settembre cosa vede? Allora innanzitutto noi chiederemo trasparenza e quindi vogliamo prima di sostenere o comunque valutare una proposta di acquisto, chiediamo che il Consiglio Comunale venga informato in tutti i passaggi. Se così non fosse l'amministrazione dovesse procedere comunque all'acquisto, beh la preoccupazione enorme è credo che andremo a creare un ulteriore forte debito al Comune di Omenia. Abbiamo già visto che in passato il centro-sinistra ha agito in maniera molto aperta con i derivati indebitando e bloccando il Comune di Omenia per tanti anni, non vorremmo che la Yermel fosse i nuovi derivati, quindi si bloccasse per anni le asfaltature, lavori all'interno delle scuole, ma è tutto quello che consegue nello sviluppo della città.